La salvezza, proprio di fronte a questo mondo, che molte volte non sa cosa fare, indici la Messa. Quest'anno saranno signori a presiedere la celebrazione. Il mio compito adesso è quello di particolare, diverso dagli economisti che dicono che anche l'Italia è una delle cause del nostro momento, che è la forza della vita e la sfida nella guerra. L'anno scorso è la forza della vita rapportata a situazioni, sottolineato in termini di drammaticità della crisi finanziaria, che dicono i Vescovi ha un carattere pressoché globale.